Mettersi in gioco fa parte un po' del nostro mestiere, nulla è così certo, quello che era bello ieri oggi non lo è più, quindi mettersi in discussione, quindi riproporsi sempre in termini di ma chissà se andrà bene, chissà se piacerà, è una cosa che deve far parte del nostro modo di essere. Dobbiamo fare una sfilata che non sempre una sfilata, non dovete essere degli indossattori, dovete essere dei ragazzi normali che passeggiano, che vanno nella strada, che incontrano la propria ragazza, che si fermano a guardare un film. È la gente che devi servire, la gente che devi accontentare, con la quale condividere un'emozione. Grazie a tutti.